Ecco i protagonisti del final table del Poker Grand Prix, l'ennesima tappa di questo grande appuntamento pokeristico a Venezia e il primo porta a casa 50.000 euro. Si tratta solo di conoscere chi sarà di questi grandi protagonisti. Cominciamo con un giocatore che ieri abbiamo intervistato da Ciplida. L'avevi promesso di far bene, sei stato di parola. Sì, è stata una giornata più tranquilla di ieri, ho avuto meno alti e bassi e vediamo insomma domani di fare bene. E' il tuo primo tavolo finale? Non al PGP, è il primo tavolo finale del Master. Sono arrivato a altri tavoli finali, degli eventi laterali e aspettavo proprio questo momento. Vediamo di farlo nella giusta maniera. Qui per quanto riguarda il Master, giochi in casa, la pressione un po' si sente? Sì, ci tengo moltissimo. Non sono l'unico componente del team come vedrete e quindi c'è pure il duello in casa. Vedremo allora il derby. Abbiamo un altro protagonista. Tu sai che se vinci il titolo è già pronto, non si batte chiodo. Sì, è un grande tavolo finale, tosto, grandi giocatori e speriamo di avere fortuna. Sei in mezzo a due signori che, come dicevamo, giocano un derby in casa. È dura? Eh sì, sì, è dura. Sono veramente bravi e è anche bello giocare e confrontarsi con loro. E a proposito dell'altro componente del team di GD Poker è Alessandro Speranza. Quando ti ho intervistato hai detto ho vendicato mio fratello che è stato tra i primi quattro eliminati e tu eri ship leader e adesso sei qua. Sì, adesso sono qua, sono il più corto del tavolo. Ho avuto una giornata con molti alti e bassi. Inizialmente ero salito molto bene in chips, fino a 400.000. Poi ho sbagliato una mano e sono riuscito. Adesso vediamo un po' domani come va, però per adesso va bene così. Scommetteresti su di te o su Tom's to Up? No, vabbè, scommetterei su di me ovviamente, però Tom's è messo meglio in chips, quindi in te dovrei scommettere su di lui, no? Un tavolo di grandi giocatori, di grandi campioni. Che emozione è essere qui? Sì, beh, è una bella emozione. Io non sono professionista, lo faccio per hobby e sono contento così. Sì, sono arrivato un po' corto, ho 213.000 chip. Vediamo, domani me la giocherò. Come si arriva in mezzo a questi grandi campioni giocando solo per hobby? Perché ormai comincia ad essere uno sport per professionisti. Sì, tanta attenzione a chi ti trovi di fronte, giocando in maniera, il mio stile è piuttosto aggressivo, però stando attento a tirarmi indietro quando è il caso. E andiamo da un altro giocatore, professionista o no? No, ma è professionista, no. Anch'io gioco come un hobby soprattutto, però mi piacerebbe giocare a livelli alti. Il mio primo tavolo finale su un evento master, ne ho fatti diversi su eventi collaterali, gioco prevalentemente online perché il lavoro mi permette di fare solo questo. Ecco, qui gioco in casa, sono di Venezia, quindi speriamo bene per domani. Professionista? Non si può dire perché comunque anche lui un lavoro ce l'ha, però i tavoli finale comincia a frequentarli ormai da B2. Sì, sicuramente quando la fortuna ci aiuta riusciamo. Diciamo che Venezia mi porta abbastanza fortuna perché ho fatto quattro tavoli finale di cui tre di main event. Uno l'ho anche vinto, per cui speriamo che se la fortuna mi aiuta di replicare, ma ce ne vuole tante in ogni caso. Uno dei maghi italiani delle ZAP, però bisogna arrivarci. Eh, infatti, speriamo, quello è l'obiettivo, le ZAP finale. Speriamo stavolta di vincerlo, però. No, comunque ho fatto un torneo che secondo me è impeccabile. Sono riuscito a rimanere dentro e a non buttarlo come solitamente facevo quando ero in difficoltà, per cui sono strasoddisfatto di essere arrivato al tavolo di finale. E chiudiamo con l'ultimo, ma come si dice in gergo, non ultimo dei protagonisti di questo Final Table. Ti osservavo da fuori, mi sei sembrato il più vivace di tutti. Ma sì, a me piace scherzare molto al tavolo. Anche nel momento in cui ero short, lo short del torneo, mi diverto perché questo è un gioco dove si gioca tante ore. Quindi stare zitti, troppo seri, alla fine mi annoia, insomma. Io sono fatto così, quindi preferisco fare amicizia e scherzare un po' con tutti. Quando si può, senza offesa a nessuno, ovviamente. E poi domani si pensa a vincere. Sì, sì, certo. Anch'io, insomma, ho fatto un torneo un po' strano, alti e bassi. Ora ci sono diversi giocatori forti, anche con uno stack simile al mio, quindi è tutto da giocare. Insomma, domani si vedrà. Che vinca il più fortunato. Che vinca il più fortunato e, diciamolo pure, anche il migliore, perché qui il field è innegabilmente elevato. Questi sono i protagonisti del final table del PGP. Ragazzi, non vi rimane altro che farvi un grande applauso e in bocca al lupo. Grazie. 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 Grazie.